Cosa c'è? Eh? Minnie! Vieni qua! Eh? Cosa c'è? Eh? Oh! Minnie! Mamma mia! Ma con chi parli? Ma non si sa? Ma con chi parli? Eh? Con chi parli, Minnie? Eh? Cosa c'è? Con chi parli? Eh? 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 Minnie! Eh? Eh? Minnie? Eh? Eh? Di te cosa dici? Minnie? 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 Eh, eh, eh Bois, lei dire Oh, la, 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 ah No, che disperai Sì, sì